C'è da chiarire se vi vive il progetto originario di una coalizione, di centro-sinistra, sfidante col Partito Democratico, ma che sia di centro-sinistra. Le sembra che MDP si stia chiudendo al momento? Questa prospettiva che lei diceva sembra che la stia tradendo del centro-sinistra. Vediamo, verifichiamo. Sicuramente in Sicilia ha fatto delle scelte che non condividiamo. Non condividete? Basta. Quindi si può dire che voi siete verso Micali, quindi se ne fissete. Grazie, uscirà un comunicato ufficiale. Pisa Pia soltanto ha detto che comunque non condividete la posizione di MDP in Sicilia, è un sostegno a Micari. Ha detto Pisa Pia, siamo d'accordo.